Buonasera, benvenuti all'edizione straordinaria del Tg regionale per molta sicurezza. Ci colleghiamo subito con l'inviata speciale Camilla Scendillestrade che si trova al G6 della zona industriale di mondo B. Grazie Sissi Secur, oggi ci troviamo nella zona industriale dove si terrà il meeting sulla sicurezza. Come già saprete dallo scorso anno scolastico gli alunni delle scuole della nostra regione hanno costruito del materiale in avendo questo tema. Ecco, come potete vedere sono ovviamente i maggiori esponenti del secondo circolo che stanno illustrando ciò che hanno prodotto. Sì? Sì? Mi chiedono di nuovo la linea dello studio. Da Via Cuneo, sicura per scelta. Buongiorno a tutti, sono l'inviata speciale sicura per scelta. Dalla scuola di Via Cuneo ecco le proposte per rendere piacevole la sicurezza scuola. Bene, è pronto al servizio. Da prolungi, linea al suo inviato. Good morning, Urba! Guarda, ho tagliato il collegamento con Londra. Siamo in diretta a Comodo B. Dobbiamo presentare la nostra biblioteca sulla sicurezza. Manuali per tutti, dalla classe prima alla quinta. Scritti e illustrati da noi bambini. Buongiorno, chiaro? Chiarissimo. Grazie amici. Abbiamo ancora l'ultimo servizio della scuola di Pianfei. Buongiorno, mi trovo nella scuola primaria di Pianfei. Andiamo a vedere come i bambini traspiavano l'intervallo. Di cosa state sfogliando? Sto sfogliando un giornalino sui ragazzi. Interessante. Ancora state giocando? Stiamo giocando a poker. Interessante. Che cosa è successo con questo bambino? Non si salta al muretto. Ve lo ricordate bambini? L'abbiamo anche scritto sul dizionario della sicurezza. Ve lo ricordate? Da Pianfei è tutto? Linea allo studio. Questo era l'ultimo servizio. Il tema della sicurezza è stato affrontato ampiamente da tutte le scuole e del secondo circolo di Mondovì. Per oggi è tutto. Vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà domani mattina alle 10.30 su questa rete. Grazie per aver seguito la nostra edizione del mattino e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Grazie per aver guardato il video.